Mark, siamo persi con il prossimo dono cica eh figurati c'ho troppi 3 euro interi ah peccato sai secondo te quella roba lì ti da il resto? stai pensando tanto che non compro una cica lì guarda come mettere nel pentaglio la salute dei propri denti e la vita contemporaneamente è vero, non potevo neanche perchè ce l'ho detto qua che ho dato di superare ok 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 occolo non ce lo possiamo perdere si butta via un po di soldi? vai, guarda di tutto se noi giochiamo domenica ah mio papà ha portato a casa un pallone così si? mi ha portato in giro un pallone a calcetto mi fa ha portato un pallone Qua è la prima volta di Libera? Hai messo la moneta se vuoi? Ecco, buttati. Attenzione eh! Si butta via l'Euro, vai! Eh ma adesso è molto bello! No di là, bravo! Eh forse, prova! Molto, ma molto, ma molto vero! Ah è anche un nostro tentativo! Eh! Eh! Pure documentato! Non ci si crede a me! Domenica l'orienziano! Incredibile! Incredibile! Ha funzionato! Dopo anni, tentativi! Dopo un milione di Euro! Ah si, abbiamo un pallone da Euro! Il primo tentativo, il pallone era qua, il pallone originale della Premier League! Eh! Mamma oh! Sei veramente se ti offri da bere però! Eh! 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 Adesso non puoi entrare però! Purtroppo col pallone! Eh! 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 Perciò che hai filmato con la Liga e metti dei sacchietti!